allora siccome le pecore hanno già avuto queste alcuni attacchi di lupi scappavano e abbiamo messo questa femmina che completamente in acqua stare con le pecore quindi non ha nessun tipo di problema stare con il greggio non le guarda neanche anzi loro la provocano anche un po ma lei non ha nessuna reazione e lei è una femmina veramente molto forte contro gli altri cani quindi ma zero aggressività con le pecore so fare ancora questa prova non va neanche in aggressività per il pane ma in questo caso avesse un minimo di aggressività per il pane che lo stanno mangiando anche le pecore le avrebbe già credite quindi credo che non ci siano problemi quindi adesso in genere ecco ok